e sempre con i battimenti rendiamo le due note più differenti per esempio adesso 425, 435 per esempio immaginiamo che ci siano 10 Hz di differenza quindi 10 oscillazioni al secondo sentiamo, quando ribattiamo insieme, sentiamo un'unica nota di frequenza pari alla media aritmetica 425, 435, 430 Hz e sentiamo un'ampiezza variabile 10 volte al secondo pari alla differenza delle due frequenze sentiamo 10 volte al secondo la differenza, i 10 Hz di differenza fra i due